Prima proprio le solburioni, ben ritrovato, la domanda, scusi Luciana, vive in un mondo suo e ha chiesto questa cosa della barba. Sulla barba ha ragione in un certo senso, perché le mascherine di alta sicurezza, quelle che si devono portare per esempio quando si lavora nei laboratori di livello di sicurezza 3, quello dove noi maneggiamo il coronavirus, funzionano meglio se non si ha la barba, perché chiaramente la mascherina deve sigillare per proteggere chi la porta, quindi in quei casi particolari è meglio tagliarsi la barba. Senta, sul cammello lascerei stare, invece c'è una cosa che riguarda, cara Lucianina, i lama, è vero? Sì, i lama hanno una caratteristica particolare, quello di fare degli anticorpi, gli anticorpi sono le proteine che il nostro corpo produce per bloccare il virus. Sono proteine molto particolari, fatti in un modo strano, che talvolta riescono a bloccare i virus con grandissime efficienze. Alcuni ricercatori hanno proprio trovato questi anticorpi di lama contro il coronavirus, che potrebbero essere modificati per essere usati nell'uomo con grande profitto, per fare appunto quei stieri artificiali di cui abbiamo parlato, quindi contro il coronavirus le truppe cammellate. Esatto, tra cui il professor che è stato con noi la settimana scorsa. Gorini, il professor Gorini. No, 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 eccolo qua, Silvestri. Ah, il professor Silvestri. Silvestri, che ha... Però Gorini è uno di quelli che sta proprio tentando di cercare questi anticorpi artificiali. Io ho una curiosità, poi andiamo ai bambini, ma come gli viene in mente a un medico di andare a cercare il lama? Cioè, come, io ho sempre pensato, come poi si dice, adesso mi ha avuto un'idea, vado a cercare un lama. Il fatto è che la ricerca è piena di cose che sembrano completamente inutili. Poi, alla fine, queste cose inutili si rivelano indispensabili per far delle importanti scoperte. Senta, mi par di capire che, al di là dello speriamo bene, che è la frase con la quale finisce ogni discussione che riguarda questo momento, un dato vero di fatto sia che col caldo possiamo sperare qualcosa. Il distanziamento sociale ha fatto molto. Le mascherine abbiamo imparato ad adoperarle, anche fatte in casa, si è capito che è meglio comunque che non averle. Abbiamo imparato a usare, diciamo, a lavarci le mani e, insomma, a avere un'igiene, diciamo, accurata di noi stessi e dell'intorno. Per il resto dobbiamo aspettare due settimane. Sì, sperando però. Noi dobbiamo aspettare due settimane, però quello che dobbiamo pretendere è che ci sia un sistema in grado di vedere, di accorgersi se qualcosa va storto da qualche parte. Ma questo sistema c'è o non c'è? Io non so, deve esserci. Cioè, i sistemi di tracciamento li hanno messi in atto nel Congo quando c'è stata l'epidemia di Ebola. Adesso io penso che si sono riusciti in un paese con così tante difficoltà. Noi dovremmo, insomma, non avere difficoltà insommortabili. Allora, bambini è un tema importantissimo perché riguarda in particolare la scuola. La ministra Zolina, noi l'abbiamo detto da subito, secondo lei, insomma, ha fatto benissimo a chiudere le scuole. Non sappiamo a settembre in che condizione ci troveremo. Noi dal resto andavamo a scuola ad ottobre, quindi voglio dire, insomma, no? Siamo di quella generazione, quindi si può anche immaginare, chissà, uno svolgimento diverso. Non lo sappiamo, ci faranno sapere, ma noi abbiamo con noi il primario dell'unità operativa di immunoematologia pediatrica del San Raffaele di Milano, il dottor Alessandro Aiuti. Tra l'altro, attraverso questo cognome, mi piace ricordare il padre del dottor Aiuti, il professore Ferdinando Aiuti, che tutti abbiamo imparato a conoscere negli anni nella lotta contro l'HIV. Buonasera, dottore, ben trovato. Grazie, dottor Fazio, e saluto Roberto. Ciao, Alessandro. Allora, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia ci sono stati solo tre decessi, solo si fa per dire, perché anche uno è troppo, fra i bambini di 0 e 9 anni, e nessuna persona invece sarebbe deceduta fra i 10 e i 19. Intanto, corrispondono alla realtà questi dati? E se sì, cosa ci dicono? Sì, effettivamente i bambini si ammalano di meno, hanno forme meno gravi oppure possono essere asintomatici. Quindi rispetto alla popolazione adulta, soprattutto degli anziani, abbiamo meno casi gravi. Però questo non vuol dire che i bambini possono anche trasmettere l'infezione. Poi il professor Burioni ci ha spiegato che sono molto contagiosi. Esattamente, i bambini sono contagiosi, possono essere infettati e possono infettare, e questo è sicuramente dimostrato. In realtà, proprio due giorni fa in Inghilterra è morto un neonato di sei settimane, e a New York, sempre due giorni fa, un bambino di cinque anni. Quindi in realtà i casi ci sono? Sì, 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 i casi ci sono. Il sistema immunitario di un bambino, di un neonato, è sicuramente diverso rispetto a quello di un adulto e di un anziano, e quindi questo potrebbe spiegare il fatto che comunque c'è un differente comportamento, un andamento diverso dall'infezione. Però ci sono anche stati questi rari casi gravi, e si sta iniziando a capire e ad approfondire le ragioni di questi casi molto gravi che si sono verificati. Allora, la scuola è il grande tema. Come tornare a scuola in sicurezza? Dottore Iuti, lei che cosa suggerirebbe? Ma sicuramente bisogna essere prudenti in questa fase di riapertura. Si potrebbe anche pensare, come è stato fatto in alcuni paesi, di aprire piccoli gruppi, però sicuramente dobbiamo mantenere comunque una fase, una prudenza, proprio perché i bambini possono contagiare altri bambini, possono contagiare anche i nonni, e quindi ridurre la diffusione del virus in questo momento è molto importante. Io sono padre, sono Burioni e padre, non so lei, ma insomma è chiaro che tutti noi ci poniamo innanzitutto questa domanda sul rischio, cioè se sia un rischio che si può correre e in che misura. Io vi faccio vedere questo filmato che riguarda invece una scuola della Cina e poi ne parliamo un secondo, guardiamolo un attimo. Io vi faccio vedere questo filmato, guardiamolo un attimo, guardiamolo un attimo. Ecco, è complicato che lo passino in autoclave, il povero bambino. Però, diciamo, questa è un'organizzazione, diciamo, anche un po' severa, però da virologo, però se quel bambino è infettato ed è asintomatico, come giustamente il professore Iuti ha detto, e può succedere, tutto questo non gli toglie il virus dalla gola e lo può trasmettere ai suoi amici e noi sappiamo che nelle scuole la trasmissione è altissima, che poi lo può trasmettere un altro amichetto al nonno. Però, professore, naturalmente è ovvio che noi stiamo parlando della politica sanitaria, poi la scuola è un'altra cosa, oltre all'apprendimento è relazione, è per i bambini più piccoli, è possibilità di innamorarsi per un adolescente, cioè è vita, da tutti i punti di vista. E quindi io penso che il tempo, per me scuola e sanità sono in assoluto le due priorità intorno alle quali ruota tutta l'esistenza, ma insomma, mi pare di capire che il problema sia urgentissimo, professore, no? Beh, sicuramente è necessario pensare a una riapertura e un ritorno alla normalità. Questo deve avvenire il prima possibile, ma deve essere sempre fatto anche in sicurezza. Non è facile trovare un compromesso tra i due aspetti, quello del diritto alla salute e il diritto all'istruzione. Quindi io penso che gradualmente si possa tornare alla normalità rispettando comunque i principi di sicurezza. Professore, in questi giorni si è parlato di patologie che sembrano avere a che fare con i covid che colpiscono i bambini. In particolare due. Una riguarda i cosiddetti geloni e l'altra invece la sindrome di Kawasaki, che è una, da quello che ho capito, insomma una vasculite rara che colpisce i bambini. Intanto c'è, come dire, una evidenza di queste due patologie legate al covid sui bambini? Beh, c'è stato visto un aumento della incidenza proprio in questo periodo di pandemia e questo è altamente suggestivo. Per esempio nel caso della sindrome di Kawasaki, che è una malattia infiammatore che colpisce i vasi del sangue, che può avere anche delle manifestazioni gravi al livello del cuore perché colpisce anche le arterie coronarie, è stato visto che alcuni di questi bambini avevano la presenza del virus oppure avevano la presenza degli anticorpi contro il virus. Questo è altamente suggestivo. Ci sono stati casi riportati in Italia dal gruppo di Genova, di Bergamo, in Inghilterra, negli Stati Uniti. C'è un'indagine in corso della Società Italiana di Pediatria. Quindi l'associazione sembra essere forte ma deve essere ancora dimostrata. Se fosse dimostrata potrebbe essere un'azione o diretta del coronavirus sull'organismo oppure un effetto indiretto mediato dal sistema immunitario. In questo senso potrebbe esserci una predisposizione anche genetica. C'è un ruolo molto importante dei geni del sistema immunitario che potrebbero influire e quindi causare in questi pochi, rari casi, queste forme molto gravi. Come facciamo a proteggere i più piccoli, Professor Aiuti? I bambini devono rimanere il più possibile isolati. Dobbiamo mantenere comunque un distanziamento sociale. È chiaro che affrontare questi problemi nell'ambito della famiglia e della società è molto difficile. La cosa importante è consultare il pediatra di famiglia se ci sono dei sintomi di un'infezione o altri sintomi o altre malattie. In questo periodo di epidemia c'è stata anche un po' una paura da parte di alcuni genitori di andare al pediatra o di andare in ospedale. Questo ha comportato anche dei ritardi di diagnosi, anche di alcune patologie gravi. Gli ospedali in questo momento si stanno riorganizzando, sono posti più sicuri, con dispositivi di protezione, percorsi dedicati. Quindi è importante sentire il pediatra di famiglia e eventualmente recarsi in ospedale se necessario. Grazie professore Iuti, buon lavoro, grazie infinite per essere stato con noi. Buona serata, grazie, buonanotte. Questo è il burione, abbiamo ancora il tempo per tre domande, se lei può rimanere. Con piacere, ma questo è importante quello che ha detto, di andare all'ospedale. Perché abbiamo visto un aumento di immortalità per altre malattie, magari perché la gente ha paura e non va all'ospedale. Ora uno dei frutti di questo sacrificio grandissimo è che gli ospedali sono rientrati più o meno nella normalità. Io spero che qualche rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità venga la settimana prossima, perché la domanda che continuiamo a fare, e avrei voluto farla anche stasera se fossero venuti, è perché adesso, quando qualcuno chiama evidentemente al Covid, ancora si sente dire quanti sintomi ha, uno, due, non si fa questo tampone e quindi quando arriva in ospedale continua a essere grave. Ma quando uno ha un sospetto di avere il Covid, deve essere sottoposto a tampone? Io non lo capisco, perché un tampone che identifica un asintomatico, un malato lieve, può risparmiare, guardiamo cosa è successo in Corea, 40 o 50 casi di contagio. Allora, visto che il virus dura poco sulle superfici, ha senso sanificare un locale chiuso da mesi? Il coronavirus non dura così tanto, quindi se lo si fa è per dare una ripulita, ma non per il coronavirus. Perché con la mascherina e i guanti dobbiamo ancora stare così distanti? Perché noi non sappiamo con certezza quanto la mascherina protegga contro questo virus. Sono stati fatti degli esperimenti con i cugini di questo virus e hanno dimostrato che la mascherina è molto efficace. Però in questa fase dobbiamo essere molto cauti, quindi dobbiamo usare mascherina e distanza. Poi, se ci accorgiamo col tempo, conoscendo meglio questo virus, che la mascherina è molto efficace, potremo anche allentare un po' le maglie. Però in queste prime settimane noi siamo i primi. È il primo paese che riesce ad uscire da un'epidemia terribile nel mondo occidentale. Altri paesi, nonostante siano stati avvertiti dalla nostra esperienza, mi riferisco agli Stati Uniti, sono ancora nei guai. Dato l'ora si può chiedere molte domande riguardo ai rapporti intimi. È difficile tenere un distanziamento sociale. Non è possibile tenere... Però chiaramente è ovvio che una malattia che ha trasmissione respiratoria, se si è vicini, si trasmette. Però chiaramente se si è stato in casa con quella persona per tutto il giorno, il contagio o è già avvenuto o non avverrà più. Quello che è importante, diciamolo, quando c'è una persona in isolamento in una casa, ovviamente il distanziamento di quella persona per evitare il contagio agli altri, la diffusione poi dell'infezione, include anche l'astinenza. Le sembra verosimile che il virus sia scappato, sfuggito a un laboratorio cinese? Qui, allora, noi virologi, noi scienziati in generale, non abbiamo una palla di vetro. Leggiamo quello che i nostri colleghi dimostrano e poi lo raccontiamo. Quindi bisogna sempre stare attenti perché poi se si prende una parola da una frase magari si conosce. No, no, diciamo, nel suo caso hanno già fatto abbastanza. Allora, non ci sono prove che questo virus sia uscito dal laboratorio. Un lavoro su una rivista molto autorevole, Nature, ha detto che questo virus è di derivazione naturale. Poi però, la vera domanda che è interessante a questo punto è, quando è apparso? Cioè, è apparso nel momento in cui pensiamo o è apparso molto tempo prima e ce l'hanno detto dopo? Questo è legittimo, però lo capiremo perché noi abbiamo una tecnica molto sofisticata che analizza le mutazioni virali e senza farla difficile si chiama orologio molecolare, quindi noi possiamo con esattezza ricostruire a posteriori quando questo virus è arrivato in Cina, quando è apparso in Cina e poi anche quando è arrivato e dove è arrivato in Europa. Quindi la verità viene fuori alla fine. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie professor Buglioni, grazie molte a lei, grazie molte.